La Guardia di Finanza di Bologna ha recuperato a tassazione 11 milioni di euro conducendo accertamenti da fine 2022 su 4 influencer bolognesi seguiti da 50 milioni di follower e 5 digital creator questi ultimi attivi su siti su piattaforme come OnlyFans e Escort Advisor. Sono stati ricostruiti i proventi ottenuti dalle pubblicazioni di post sui social e anche da collaborazioni avviate con aziende. I controlli delle fiamme gialle, finalizzato l'accertamento fiscale senza rilevanza penale hanno riguardato, tra i profili digitali degli influencer, anche quelli di Gianluca Vacchi e Luis Sall.